Non c'è angolo del nord-est che non sia in sofferenza. Forse solo Venezia e in Veneto si salva dal caliede d'oleanza generale che affligge il settore turistico in una regione abituata a macinare record, che ha dovuto piegare la testa al maltempo, che per la montagna non ha avuto soste. Si è passati da metri di neve e emergenza blackout alle frane. Alla fine il dato che circola in questi giorni, presenza in calo del 2,4%, sembra quasi confortante. Sulle coste la latitanza dei raggi solari ha tenuto lontani decine di migliaia di vacanzieri e praticamente tutti i pendolari. Qui si viaggia su un calo più vistoso, ma non ancora calcolato. Il test di Ferragosto fa da campione per valutare l'impatto nell'area del Garda, meno 15% di presenze. Non se la passa meglio il Friuli Venezia Giulia, dove se non bastasse la crisi economica, la stagione turistica balneare è stata ugualmente compromessa dal maltempo. Definire questa stagione una stagione maledetta, fra virgolette, dal punto di vista meteorologico, è dire poco, nel senso che a problematiche strutturali che già ci sono, sia sul comparto turistico che sul comparto agricolo, derivante da questi anni di crisi e da tutta una serie di manchevolezze, la parte legata al maltempo ha sicuramente dato il colpo di grazia. Anche perché, per quanto riguarda la parte turistica, dobbiamo sottolineare come fino al 30 giugno avevamo dati assolutamente positivi, sia in arrivi che in presenze, in tutti i comparti, sia quello montano che quello marino, che nelle città. E quindi questo ci mette in qualche modo, ha messo in qualche modo veramente in ginocchio il settore. Aspettiamo fine stagione per capire esattamente la portata dei dati, però dobbiamo anche mettere in luce come una serie di azioni che sono iniziate dopo l'approvazione del piano del turismo della regione Friuli Venezia Giulia abbiano perlomeno mitigato alcune di queste problematicità. Il Friuli Venezia Giulia tiene, se confrontato con altre regioni italiane, come Marche, Campania e Puglia, grazie soprattutto al turismo in città, sostenuto dal piano turistico regionale, ma l'aiuto della regione non potrà durare per sempre. È evidente che però, subito dopo la fine della stagione, dovremmo ritrovarci con tutti gli operatori pubblici e soprattutto privati e far capire che, fatemi passare a questo termine, non è che si può aspettare sempre mamma regione con contributi, con azioni, eccetera, ma significa anche che le varie parti debbono trovare all'interno del piano del turismo del Friuli Venezia Giulia strade anche autonome. Il turismo è un'industria diffusa dal motore bloccato e i fondi per le aziende in crisi sono al lumicino. Per questo si pensa ad una richiesta più mirata e possibile, come la dilazione dei pagamenti fiscali, se non anche sgravi nel pagamento delle imposte, che a questo punto dovrebbero però essere piuttosto diffusi su diversi settori, perché a soffrire non sono solo albergatori ed esercizi commerciali, ma anche tutto il settore del divertimento e delle manifestazioni culturali, che potrebbe unirsi alla lunga lista delle aziende in crisi.